Teenage dreams in a Teenage Circus Running around like a cloud on purpose Who is a damn about the family you come from No giving up Benissi a tutti raga, oggi siamo su CONCRAVA GAME...eh no, aspetta The Social Binder E come ho detto il mio vlog, mi racconti qui in descrizione Comunque, oggi siamo in compagnia di una mia amica E mia 48 Salute, prego Buongiorno a tutti, anche se sera, buonasera Giusto Perché questo video, se non si vede, lo sto girando di sera E... E se mi piacciono le mie puntate, ah, ce l'ho di mettere un mi piace Mi piace Ok, andiamo col parkour Eh... Iniziamo con i fail di prima mattina Mattina Stiamo parlando di mattina quando è sera È un vuoto idea, veramente Vabbè, i fail di prima sera Quelli che vuoi hai fatto a superarmi? No, dai Io sto facendo i fail I fail a primo inizio Io non li sopporto a fatto Ma ci stavo riuscendo, perché mi sono stoppato? Ok, questo Il gioco mi trolla Ah No, aspetta che c'ho qualche po' il meglio tecnico Scusa ma salta su due pareti Eh, beh Si può fare Ok, questa cosa Io la saperemo perché continuo a fare si fail Grazie a me, avevo detto perché mi avete Beh, io continuo a fare fail Aspetta un attimo, taglio a sta parte del video Scusate se Scusate se l'ho tagliato, però Avevo paura di metterci mezzo secolo e qua c'è C'è export tech, quindi Vi devo raggiare perché sennò devo tagliare il video E vi Lo sai? Sopra Scusate Ah, ok E poi vi spiego che c'è, ci sei arrivata No, però c'è una caduta Peccato Eh, no, sto facendo sacco di pelle, anch'io Oddio E che c'è un po' Allora E poi Qua E poi No, evi Aspetta, un attimo Ma che Scusate Ma perché il biogadac c'è così tanta di agita Che anche un mollusco Saperrebbe fare di meglio, sappiatelo Oddio C'è un quasi uscito Ehm, ehm Ma I biogadac Eh? Guardami osserva il maestro la maestra che fai mu che fai te comunque ok credo di aver capito qualcosa infatti ci sono per riuscire ma sto facendo un sacco di pain e io a questo punto taglio anche questa parte di video allora via si ho fatto ok raga ci ho messo due anni per fare questa cosa se c'è un palazzo indicato ai versi c'è poi salvato ecco questo non bastasse fatti bravo bravo ho fatto iniziale a evi comunque la dobbiamo fare più volte sta coppia cavolo la dobbiamo fare più volte sta coppia qualche coppia sui succo caro perché è diversamente parla insieme la mia prima coppia se proviamo che no ma io c'è un amico youtuber oh grazie ok ora cerca di arrivare senza morire senza morire perché alla fine se la pietra che sono due anni anche che fa è necessario per fare tutta cosa nooo nooo no nooo 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 tak johnson nooo 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 ti credo non ci credo come io per lì io taglio perché a quanto pare il mio avatar è così grasso da poter cadere tutti le parti ok raga ci ha messo Poi più di prima ho messo 6 anni per fare un parkour e ci rimettevo tre secoli per questo Bene Vabbè finita questa cosa andrà a uccidere a un'ora di questo livello perché veramente mi sta facendo stagliare i nervi Sì che sono arrivato a 2 minuti da checkpoint e poi sono morto Evi No Voglio vedere in questo video quanto verrà lungo Eh non ti preoccupare che c'è Io taglio Ok raga ho dovuto fare Tagli pazzeschi perché Anche perché il video sarebbe durato poco E vai senza morire Io Il fail di prima giornata Perfetto Me lo fa apposta questo vero di suo avatar Ci sto riuscendo Evi ci sto riuscendo A 10 Stai guardando? Stai riuscendo? Stai riuscendo? Stai riuscendo? Stai riuscendo con la telefonata da 37 minuti e 40 secondi Bene E contato vuoi? No 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 Io arrivo al traguardo Io arrivo al traguardo Sei Stai riuscendo con la versione ore ok raga però cosa assurda e vedi sei bloccato un'altra volta o dirlo ci sembra che qui c'è più grazie avevo scritto perché sembra proprio il quadro il mio avatar è cicciolissimo per caso conosci la prossima volta non consigliarmi questo parkour perchè se lo vi è voglia di ucciderlo un parkour non per dire cosa stavo io sto ancora distratto se lo sai che avevo la prossima volta infatti adesso sto ovviamente ragazzi ci sono riuscito il peccato è che dopo dove io perché farlo però we are the champions per 2 cioè con quello poi si dire anche su videro e finisco così questo non so questo è difficile io qualche parlo però ho detto lo è difficile ed ecco gli edifici quando c'è questo fine video vi è tomprega per tutta la sera la mamma il ragazzo a chi a te a te la gatte o infatti si vede che tuo avatar bellissimo allora noi ci come al solito ci vediamo nel prossimo episodio e se volete che faremo ancora walk up io e con io e e la mia amica emilia 48 con slender 42 faremo walk up lasciate un commento mi piace iscrivetevi a questo canale e se volete che io e noi ancora facciamo questo video e scriveteci ancora su questa mappa scriveteci e noi ci vediamo al prossimo video ciao bella ragazzi bella ragazzi nici ci vediamo al prossimo nanti